Sul Mediterraneo centrale è in avvicinamento una saccatura atlantica che determinerà un peggioramento per le prossime ore. In Toscana venerdì 6 settembre è nuvoloso con possibilità di rovescio temporale a partire dalle zone costiere, parziale attenuazione dei fenomeni in serata, venti deboli o moderati a rotazione ciclonica, mari poco mossi in aumento a mossi, temperature minimi in lieve aumento massime in calo. Sul territorio provinciale da nuvoloso a molto nuvoloso con deboli piogge alternate a schiarite migliora in serata. A Lupe sulla Piana temperatura minima 16 massima 25 gradi, a Castelnuovo Garfagnane zone montane minima 12 massima 26, a Via Reggio e sul litorale minima 18 massima 25 gradi. Sabato cielo sereno, temperature massime in diminuzione.